Ecco, questa è l'Italia, per cui chi ha combattuto per farla sicuramente sta male, no? Io l'ho detto a Ballarò, quando mi hanno detto ma i giovani che sono intero, i giovani, è chiaro che non sanno niente, ma mica io sono incassato con i giovani, perché sono le vittime i giovani di questa situazione, sono coloro che pagheranno tutto disgraziati. Io ai giovani dico soltanto quello che diceva Antonio Gramsci, quando è il frontespizio di Ordine Nuovo, c'era il motto, no? Lui si rivolgeva alle masse popolari allora e ci diceva guardate che se volete un futuro migliore dobbiamo fare queste cose e diceva istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra intelligenza, che è il grande patrimonio che abbiamo disperso in Italia a mani piene, perché soltanto con la media unica si è riusciti finalmente a far andare a scuola tutti. Prima pensi il patrimonio che abbiamo disperso di intelligenza in questo paese, maledetto, poi diceva agitatevi perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo e poi diceva organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza. O riusciamo a portare avanti queste cose qua per parlare di antifascismo, questo era l'antifascismo, altro che le balle che vengono da contare. Grazie.